La formazione per studi professionali è il tema cardine dell'avviso 4 2024 di Fondo Professioni. L'avviso 4 2024 del Fondo Paritetico ha l'obiettivo di assicurare la formazione continua per gli studi professionali. La dotazione finanziaria del piano formativo è di 1,2 milioni di euro. Ogni azienda ha un importo massimo richiedibile di 4.000 euro per ciascun piano formativo. Il contributo a saldo verrà erogato entro massimo 90 giorni successivi dalla data di ricezione del rendiconto. Possono beneficiare del piano gli studi professionali e le aziende aderenti a Fondo Professioni. Ci sono vari spazi temporali per la presentazione delle domande. Il primo fino al 27 settembre 2024. Il secondo fino al 20 dicembre dello stesso anno.